Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero e ardo e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Tal ma in pregion che non m'apre né serra, né per suo mi riteng né scioglie il laccio, e non m'ancide amore, e non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. Veggio senza occhi, e non ho lingua e grido, e bramo di perir, e che gioaita, e ho in odio me stesso e amo altrui. Pascomi di dolor, piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son, donna per voi. Nel video di quest'oggi leggiamo e commentiamo insieme uno dei sonetti più famosi del canzoniere di Francesco Petrarca, il sonetto 134, ultimo di una serie di tre sonetti con argomento simile, e di essi sicuramente il più conosciuto, anche per via del fatto che molto spesso è letto a scuola anche con una finalità meramente pratica, cioè quello di utilizzarlo come testo di partenza per imparare alcune figure retoriche. Osservate per un istante il testo a video, guardate quante parole sono state evidenziate, e praticamente ognuna di esse contiene una figura retorica. Alcune le metteremo in evidenza fra poco nel commento. Si tratta di un sonetto che potremmo definire sonetto enigmatico, è una sorta di mistero, cioè se noi leggessimo soltanto la prima parte del testo non capiremmo quasi nulla del perché l'io lirico si esprime in questo modo, non capiremmo quasi nulla dello stato d'animo contrastante del personaggio. Ovviamente l'enigma verrà sciolto, verrà risolto alla fine del testo, proprio nell'ultima riga, il verso 14, al quale arriveremo fra qualche minuto. Rileggiamo ora l'intera poesia, partendo dalla prima delle due quartine. Ve la rideggo. Come vedete, l'intera prima strofa della poesia è la descrizione dello stato d'animo del poeta, che parla proprio in prima persona e dice così a verso 1. Pace non trovo e non ho da far guerra. In questo verso troviamo la prima di una lunghissima serie di antitesi, di contrapposizioni. Il verso è spezzato in due metà. Da un lato, dice Petrarca, non trovo pace. Dall'altro, invece, non ho da far guerra. Di questa seconda parte del testo potremmo dare forse due interpretazioni. Secondo alcuni significa non ho modo di fare la guerra, cioè non ho neanche gli strumenti per fare guerra. Altri, invece, interpretano in maniera leggermente diversa. Non ho potrebbe voler dire non devo e non devo fare una guerra. Osservate all'inizio e alla fine del verso l'antitesi fra due vocaboli. Pace, vocabolo ovviamente positivo, guerra, termine contrapposto negativo. Verso 2. E temo, e spero, e ardo, e sono un ghiaccio. Qui troviamo il polisindeto. Le parole sono collegate fra di loro per mezzo di una sequenza di congiunzioni tutte uguali. E temo, e spero, e ardo, e sono un ghiaccio. Anche qui dell'antitesi. In prima battuta si dice temo e spero. Cioè, da un lato ho timore, paura, dall'altro ho speranza. Il timore è qualcosa di negativo, la speranza qualcosa di positivo. E poi ancora, e ardo, cioè sono pieno di passione, di fuoco, ma sono anche un ghiaccio. Sono come congelato, ibernato. Termine, in questo caso, negativo. E poi ancora alla riga 3. E volo sopra il cielo, e giaccio in terra. Al tempo stesso, dice l'io lirico, mi sento sopra le nuvole, sopra il cielo, cioè molto bene, ma dall'altro lato contemporaneamente giaccio in terra. È come se fossi precipitato a terra. E, rega 4, nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio. Da un lato non riesco a tenere, ad afferrare nulla, ma contemporaneamente ho la sensazione, il desiderio di abbracciare tutto il mondo. Da un lato l'io lirico vorrebbe nascondersi, dall'altro invece manifestarsi, comunicare con le altre persone. Come vedete, l'intera quartina rappresenta una gigantesca antitesi, fra una sequenza di termini positivi, ve li ho evidenziati in verde, e una sequenza di termini contrapposti, di valore invece negativo, ve li ho evidenziati con il colore giallo. Ancora una figura retorica. All'inizio delle righe 2, 3 e 4 l'anafora. Tre versi consecutivi iniziano con lo stesso vocabolo, la congiunzione et. Dopo questa descrizione lunga, dettagliata, approfondita, dello stato d'animo del poeta, passiamo invece alla seconda quartina, in cui, come vedrete, la tematica cambia leggermente, e il testo dice così. Ho messo in evidenza 4 o 5 vocaboli con il colore rosso. Per quale motivo? Perché l'autore ci fornisce alcuni indizi che ci porteranno alla soluzione dell'enigma a riga 14. Vediamo quali sono queste parole. Tal, pregion, laccio, amore e impaccio. Ovviamente il termine più importante è quello colorato in rosso a riga 7, amore. Si comincia a capire che probabilmente il colpevole di tutto è il dio d'amore. Il poeta è innamorato. Qual è la reazione del poeta all'amore? Si sente come in una prigione, riga 5. Si sente come allacciato dai nodi d'amore, riga 6, e vorrebbe trarsi d'impaccio, cioè liberarsi da questa prigione, da queste catene, riga 8. Rileggiamo l'intera quartina. Tal ma in pregion che non m'apre né serra, né per suo mi riteng né scioglie il laccio, e non mancide amore, e non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trai d'impaccio. La ripercorriamo. Un tale, scopreremo appunto dopo che il dio d'amore, mi tiene come prigioniero, mi ha in pregion. Tuttavia non m'apre né serra. Cioè in certi momenti sembra volermi liberare, aprire le porte del carcere. In altri momenti le chiude queste porte, le serra, le rinchiude. Né per suo mi riteng né scioglie il laccio. Non mi considera del tutto un suo servo, un suo schiavo, non per suo mi ritien, ma dall'altro lato né scioglie il laccio, ma non mi libera mai completamente. E poi aggiunge ancora, a riga 7, amore non m'uccide completamente, non mi ancide, ma al tempo stesso non mi sferra, non mi toglie il ferro dal petto, la spada dal cuore, non mi libera completamente mai da lui. Né mi vuol vivo, né mi trai l'impaccio. In certi istanti sembra volermi uccidere, in altri invece liberare. Come vedete il sentimento d'amore è visto come qualcosa di fortemente ambiguo, duplice, ambivalente. L'amore è descritta come una prigione dalla quale in certi momenti sembra che ci possiamo liberare, in altri invece ci torniamo immediatamente dentro. E' come una battaglia che non riusciamo mai né a vincere né a perdere completamente. Ecco il perché dello stato d'animo descritto nella prima quartina. Il poeta è innamorato, ma è un amore controverso, tormentato, non deciso fino alla fine. Dalle due quartine passiamo ora alle due terzine e riprendiamo la lettura dalla riga 9. Veggio senza occhi e non ho lingua e grido, e bramo di perira e che gioita. E ho in odio me stesso e amo altrui. Come nella prima quartina, anche nella prima terzina, di nuovo tutto un gioco di antitesi, di contrapposizioni, fino addirittura all'iperbole, all'esagerazione, al paradosso, come a riga 9. Veggio senza occhi. Vedo senza avere gli occhi, iperbole, esagerazione, non ho lingua e grido. Non ho più parole ma riesco ancora a gridare. E bramo di perira e in certi momenti desidero perire, cioè morire. In altri invece cheggio aita, chiedo aiuto, voglio vivere, voglio essere salvato. E dunque al tempo stesso o in odio me stesso, non mi sopporto più, sono tormentato dall'amore, ma al tempo stesso amo altrui, voglio bene ad un'altra persona, la donna, Laura, di cui sono innamorato. Di nuovo dunque una serie di antitesi, di contrapposizioni, di antitesi nette fra vocaboli. Vedere senza occhi, gridare senza la lingua, desiderare sia la vita sia la morte, odiare e amare, e così via. Arriviamo alla conclusione, cioè alla seconda e l'ultima terzina. Riprendiamo da riga 12. Pascomi di dolore, piangendo rido. Egualmente mi spiace morte e vita. In questo stato son donna per voi. Ecco la spiegazione dell'enigma di partenza. Prima ancora un'altra antitesi. Pascomi di dolore. Mi nutro di dolore, di sofferenza, piangendo rido. Qui addirittura all'ossimoro, la massima contrapposizione possibile. Sto contemporaneamente ridendo e piangendo. Perché? Perché l'amore è un'alternanza di sentimenti, di stati d'animo opposti, diversi. In certi momenti si è felici per l'amore, si ride. Poco dopo magari si ha una sofferenza d'amore e si piange. Piangendo rido. E aggiunge, ugualmente mi spiace, cioè mi dispiacciono allo stesso livello. Qualche volta la morte, qualche volta la vita. Altro simon, altra antitesi. E la conclusione vera e propria al verso 14. In questo stato son donna per voi. Come sempre Laura, la donna di cui lui si è innamorato, non è chiamata per nome, ma in questo caso con una sorta di epiteto. Domina, in latino, donna del mio cuore, mia signora. Ecco, dice l'io lirico, io per colpa vostra, per causa vostra, lui dice per voi, mi trovo in questo momento, in questo stato d'animo spezzato, contrastato, vivo l'antitesi sulla mia pelle, per così dire. Dunque, come vedete, l'enigma è stato risolto. La causa, il motivo, la ragione di questo stato d'animo tormentato del poeta è tutto nell'amore, come si dice a riga 7, e più nello specifico dell'amore per la sua donna, la donna di cui si parla a riga 14, e che in fondo è la destinataria di questo testo poetico. Concludiamo e rileggiamo un'ultima volta questo bellissimo e famoso sonetto di Francesco Pedrarca. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero e ardo e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Tal ma in pregion che non m'apre né serra, né per suo mi ritenne scioglie il laccio, e non mancide amore e non mi sferra, né mi vuol vivo né mi trai d'impaccio. Veggio senz'occhi e non ho lingua e grido, e bramo di perir e cheggio aita, e ho in odio me stesso e amo altrui. Pascomi di dolora, piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son donna per voi. Grazie a tutti per l'attenzione, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, e se volete iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.